È una soluzione che deve trovare la Questura e la Regione principalmente. Non è la Regione che decide dove deve essere spostato all'Ufficio Immigrazione della Questura. La nuova collocazione dell'Ufficio Immigrazione, che dovrebbe evitare le code che attualmente si formano all'esterno della Questura in Viale Venezia, al momento è un mistero. Non decide il Comune, non decide la Regione, decide il Questore, che ora preferisce non esprimersi sul tema. La certezza sembra essere che l'Ufficio non si farà in Viale Ungheria, nell'ex mensa della Casa dello Studente, perché su quell'edificio la Regione ha altri piani. L'ipotesi è definitivamente tramontata? La scelta è regionale, perché il luogo è della proprietà della Regione Friuli Venezia Giulia e quindi in questo rapporto noi c'eravamo chiaramente collocati. Nel Questore Pocofaccio ha detto che non ne parlo perché non è affar mio, il Vice Sindaco Pocofaccio ha detto che non ne parlo perché non è affar mio, quindi diventa affar suo. Figuriamoci se affare della Regione. Si tratta semplicemente di non voler entrare nel merito, non è qualcosa che ci riguarda. Poi è chiaro che se uno mi dice vorremmo andare là e quell'immobile che abbiamo individuato è tuo, ci coinvolge. Qui magari possono esserci altri interessi da parte per esempio di Ardis, che è l'attuale proprietario, che magari può avere dei progetti per il futuro, per l'utilizzo, per il riutilizzo di quell'area. A risolvere la questione ci sarà probabilmente un nuovo vertice a breve, dove spetterà il prefetto decidere chi decide l'ubicazione dell'Ufficio Immigrazione. Adesso interlequiranno, insomma a breve credo ci sarà un incontro organizzato dal prefetto per approfondire la questione. Ok, perfetto.